Era stata la stessa insegnante di una scuola materna della provincia di Salerno a sporgere denunce alla Polizia di Stato nei confronti del funzionario. Il 57enne, che lavorava presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, per un'istanza di pensionamento e di rigongiungimento delle varie posizioni contributive maturate nel corso della carriera, come ha detto all'istruttoria, gli aveva chiesto 1000 euro in contanti per accelerare e definire la pratica in maniera certa, somma di denaro che la donna gli avrebbe dovuto consegnare personalmente. A quel punto gli agenti della sezione reati contro la pubblica amministrazione del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia si sono messi subito al lavoro con la vittima della tentata estursione che fungeva da esca. L'insegnante così si è presentata presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di Salerno in via Monticelli per definire la sua istanza amministrativa. Arrivata dal funzionario, gli chiedeva per quale ragione era necessario pagare 1000 euro per la definizione della pratica. Il 57enne a quel punto sosteneva che la somma era necessaria per fare un regalo ad un fantomatico terzo soggetto di Roma che avrebbe sbloccato la pratica velocemente, pratica che presentava purtroppo un iter complesso. La donna ha finto di abboccare, ha consegnato la busta contenenti 1000 euro in contanti all'uomo che li riponeva immediatamente all'interno di un cassetto della sua scrivania, richiudendola poi a chiave. Una volta uscita dalla stanza sono entrati in azione comunque gli agenti che hanno recuperato la busta sequestrandola come prova dell'estorsione, arrestando in fragranza di reato il funzionario con l'accusa di concussione. Grazie a tutti.